Seconda edizione per la Lotteria di Beneficenza per le Opere di Carità del Papa. Dopo quella di Natale, il Pontefice ha messo a disposizione altri premi perché l'iniziativa, organizzata dal Governo a Torato, potesse ripetersi. La Lotteria terminerà il 29 giugno, solennità dei Santi, Pietro e Paolo. Il giorno successivo, l'estrazione davanti ad un'apposita commissione. I biglietti del costo di 10 euro sono acquistabili all'interno dei punti vendita a Vaticani, ma anche negli shop dell'Ufficio Filatelico e Numismatico e nei Musei Vaticani. Monsignor Diego Ravelli, capo ufficio dell'Elemosineria Apostolica, racconta l'iniziativa a partire dalla Lotteria di Natale. È stato un successo sì, ma un successo di solidarietà, perché davvero ha suscitato tanto interesse e tante donazioni attraverso questa Lotteria. Il Santo Padre ha voluto poi donare tutto il ricavato all'Elemosineria Apostolica per le sue attività. E le attività sono quelle semplici, quella della piccola carità silenziosa che si fa. E abbiamo dato cifre anche significative. Nel mese scorso abbiamo dato quasi più di 300 mila euro in piccole donazioni ai poveri. Adesso, in questi giorni, soprattutto verso anche quei rifugiati politici che stanno arrivando e che anche qui a Roma c'è una certa emergenza, cerchiamo di intervenire con tempestività e con piccoli aiuti. Sì, sono doni che vengono fatti al Santo Padre, piccoli doni, ma ci sono anche doni importanti. Per esempio, il primo premio è un'auto Kia Sol che è stata donata in Corea durante il viaggio apostolico in agosto. Ma è bello vedere come il Santo Padre questi piccoli doni che riceve li vuole condividere. Fa parte questo dell'amore cristiano. Quando uno riceve qualcosa di bello, la cosa bella dell'amore è quella di ridonare e condividere con gli altri quello che si è ricevuto.